Musica Giovedì 20 ottobre 2016 a Salerno, 350 architetti hanno partecipato al convegno Il Futuro dell'edilizia. Progettare e riqualificare l'edificio impianto in chiave sostenibile. Convegno di infoprogetto organizzato da Action Group Editore. Numerose le aziende presenti che hanno avuto modo di presentarsi e presentare i propri prodotti. Vediamo le interviste. Per noi è fondamentale tenere alto il legame con il mondo degli architetti e della progettazione in generale. Nel senso che per noi rappresentano il biglietto d'ingresso in ogni tipo di intervento. Quindi non solo nel proporre ma anche nel ricevere suggerimenti da parte del progettista su quali prodotti sviluppare e come professionarli. Per cui questi appuntamenti per noi sono realmente importanti e su cui crediamo da sempre e continueremo a farlo. Grazie. 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 Grazie.